Tornano a scioperare i dipendenti della DAICO di Chieti, nonostante le rassicurazioni arrivate due giorni fa in merito alla temuta delocalizzazione dello stabilimento. Dopo la recente assenzione dal lavoro, che ha visto l'adesione di quasi il 100% dei lavoratori dallo stabilimento di Chieti Scalo, e nonostante l'incontro dei rappresentanti dell'azienda con il sindaco Diego Ferrara, al quale sono state date rassicurazioni in merito alla permanenza della produzione sul territorio, la tensione resta alta. Per questo le organizzazioni sindacali CGL e Cisleguilla hanno deciso di confermare lo sciopero previsto per oggi e domani. Il sindaco, al termine dell'incontro, aveva riferito le rassicurazioni arrivate dai vertici aziendali, secondo i quali non c'è alcun rischio né di delocalizzazione né di perdita dei posti di lavoro. Ma i sindacati e i lavoratori sono scettici. Nel pomeriggio intanto l'incontro con il sindaco Ferrara. I timori nascono dal fatto che la multinazionale ha di recente affidato parte della lavorazione della materia prima per realizzare le cinghie di trasmissione a un'azienda di Trento. Stiamo scioperando perché l'azienda ha dichiarato in un incontro ufficiale una nuova attività di produzione fuori regione. La motivazione non ci ha convinto per niente perché comunque hanno una capacità produttiva altissima qui a Chieti e quindi la motivazione non è quella che ci hanno adotto, cioè per sopperire eventuali fermi legati a eventi atmosferici e fermi di altra natura. Per questo motivo io ricordo sempre che chi sta scioperando sta perdendo salario. Se qualcuno pensa che si divertono a stare a casa non credo proprio. Ma avete il timore di una delocalizzazione dallo stabilimento o di parte di esso? Ma guarda poi nel lessico italiano si può chiamare come vuoi, ma se io non produco più comincio a non produrre più qui. A me chi mi assicura che a lunga gittata questa produzione dal 3% diventa il 5, diventa il 6, diventa il 7 o diventa tutto? Chiaro, questo dipende poi da chi gestisce, da chi comanda. Quindi o loro o ci dicono veramente la motivazione, qual è, se no per noi siamo appunto da capo. Il futuro? Il futuro sicuramente, stando alle parole aziendali, c'è il lavoro. Quale lavoro? Un lavoro di poco rilievo o un lavoro a mantenere? Oggi gli stabilimenti abruzzesi, perché c'è un altro stabilimento sia a Manopello che a Colonnella, ci hanno dichiarato che c'è tanto lavoro. Nonostante la transizione elettrica e tutto ciò che sappiamo. Vedremo, vedremo cosa ci diranno. Qui a Chieti quanti dipendenti ci sono? A Chieti sono 329, poi ci sono Manopello, stabilimento 3, 220 e un'altra 50-60 sempre a Manopelli nel magazzino e una 70-80 di dipendenti a Colonnella.